Musica Venerdì 17 ottobre, San Rodolfo, è il 290esimo giorno dall'inizio dell'anno e mancano 75 alla fine. Il sole sorge alle 7 e 29, tramonto le 18 e 22. La luna si leva alle 1 e 07, tramonto le 15 e 14. La consueta guerra dei pugni sul ponte che da Santa Fosca porta a San Marcilian in Canareggio, degenera in grave tumulto. Musica Mostra Mater Amabilis Mater Admirabilis al Museo Diocesano di Treviso dal 10 ottobre al 18 gennaio. Circa 40 immagini inedite dedicate alla Vergine Maria e a Gesù, provenienti da collezioni private, affiancheranno i capolavori esposti al museo. Entrata libera, chiuso il lunedì. Musica Le previsioni per domani Su pianura e prealpi nella prima parte di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Sulle dolomiti sereno per tutto il giorno. Precipitazioni Probabilità bassa, in prevalenza assenti, su pianura e prealpi localmente è possibile qualche pioggia di breve durata e scarsa entità nella prima parte di giornata. Temperature Rispetto a ieri in pianura senza variazione di rilievo, fino a metà mattina, poi moderatamente più basse, con minime raggiunte a tarda serata. Sui monti in aumento c'è un calo dei valori notturni nelle valli. Musica Musica Musica